Siamo ora alla politica, CGL e CISL del Frignano hanno incontrato ieri i quattro candidati a sindaco per Pavullo per le prossime elezioni del 3 e 4 ottobre. Sentiamo. Entra nel vivo la campagna elettorale a Pavullo in vista delle prossime amministrative, 11 realiste con 157 nomi in totale a sostegno dei quattro candidati a sindaco, tutti uomini. Temi caldi per i candidati Sanità e Viabilità. Il centro-destra è unito attorno alla figura di Luciano Biolchini, sindaco uscente, sostenuto da una coalizione composta da quattro liste, una civica e tre di partito. I punti stati sono finire il parco ducale, finire il centro, finire il polo scolastico, cercare parcheggi per Paolo che abbiamo già un'idea, una viabilità dolce, abbiamo tanta roba, tanta carne e foccia. Sono molto sereno, non sereno se tanto si vinca o si perde, io ci ho messo l'anima giorno e notte, ci ho messo tutto il mio cuore, se è abbastanza, se è abbastanza, se non è abbastanza ringrazierò i paulesi per l'onore che mi hanno dato di farlo 5 anni. Il centro-sinistra si presenta diviso, il PD ha puntato tutto su Graziano Pattuzzi, ex sindaco di Sassuolo e Pavullese di nascita. Pattuzzi ha raccolto torno a sé tre liste. La salute e quindi partendo dall'ospedale rafforzandolo nelle sue funzioni, tema della viabilità che è un tema importantissimo, bisogna lavorare sul recupero del commercio del centro storico, bisogna ridare un ruolo e una dignità alle frazioni che purtroppo in questi anni è stata un po' sbarrita. È possibile riconquistare Pavullo, certo noi abbiamo alcune difficoltà che sono rappresentate in modo particolare che il centro-sinistra si presenta anche diviso. Le forze di sinistra e il Movimento 5 Stelle invece si sono qualizzate intorno al nome di Stefano Scaruffi per una proposta alternativa a quella di Pattuzzi. I primi punti sono un grosso lavoro sull'ambiente, affermare il ruolo di Pavullo all'interno del territorio di tutto il Frignano e questo ha delle rilevanze dirette sul discorso sanità, sul discorso ospedale, sul discorso viabilità. Una grossa partecipazione nelle liste di giovani, altro tema molto importante è la valorizzazione delle nostre emergenze architettoniche, del volontariato. Il quarto candidato è civico, Davide Venturelli, sostenuto da un solo gruppo insieme per Pavullo. La scelta di candidarmi nasce dopo quasi dieci anni di impegno come consigliere in comune a Pavullo. Pavullo ha bisogno di una marcia in più, in primis la viabilità, dobbiamo pianificare una viabilità sostenibile per il territorio, dobbiamo puntare a una riqualifica della sanità, dobbiamo cercare di promuovere il turismo, dobbiamo valorizzare il nostro ambiente e sostenere tutti coloro che vorranno fare impresa sul nostro territorio e chi già lo fa.